All'inizio dell'anno al 31 luglio i migranti sbarcati sulle coste italiane sono stati il 115% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso è quanto emerge dal dossier statistico diffuso ogni anno dal Biminale in occasione del Ferragosto ma il dossier tocca anche numerose altre questioni dal dissesso idrogeologico alla violenza contro le donne i vigili del fuoco hanno effettuato quasi 600 mila interventi nei primi sette mesi dell'anno in netto aumento alle operazioni per danni idrogeologici mentre sono in calo gli incendi cala anche il numero delle donne uccise, sono 71 contro le 77 dello stesso periodo del 2022 calano anche le denunce per stalking Poco fa il ministro dell'interno Piantedosi ha portato intanto il suo saluto alle sale operative delle Forze dell'Ordine a Roma Ascoltiamo Ho voluto trascorrere la giornata di Ferragosto portando il mio saluto alle donne e agli uomini impegnati oggi su tutto il territorio nazionale nelle sale operative della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza dell'Amministrazione penitenziaria, delle Capitanerie di Porto, del Dipartimento della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco e per loro tramite rivolgere un ringraziamento a chi con professionalità e dedizione trascorre questa festività al lavoro per garantire come ogni giorno la sicurezza e la protezione dei nostri cittadini In questa occasione desidero rinnovare a tutto il personale delle amministrazioni, del sistema di sicurezza nazionale del soccorso pubblico e delle Prefetture la mia più profonda gratitudine Il Ferragosto è da sempre un momento di bilanci per il Viminale ma ciò che oggi mi preme più di ogni altra cosa sottolineare è che gli importanti risultati raggiunti in questi mesi sono il frutto del vostro impegno e del vostro sacrificio del vostro quotidiano essere al servizio della comunità La competenza e il coraggio che dimostrate in ogni occasione sono motivo di orgoglio per l'intero Paese e quindi buon Ferragosto a tutti Grazie 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 Grazie